Non un gioco erotico estremo, ma una rapina sfociata nel sangue. Ucciso da quattro cittadini romeni, tre dei quali sono stati ora fermati dalla squadra mobile. E' morto così Arturo Norato Taipe Campos, il 54enne peruviano trovato privo di vita il 24 febbraio scorso nel suo appartamento in via di Torrenova. Alto, corporatura robusta, Campos Taipe aveva difficoltà a camminare, per questo usava le stampelle e un collare cervicale. E' stato il nipote a trovarlo, riverso in terra, le mani legate da un asciugamano e il volto coperto da una felpa. Omicidio o tragica conclusione di una pratica sessuale estrema? Tutte le piste sono state seguite da subito dagli inquirenti, con un'indagine che ha visto incrociare la più classica delle attività investigative ai dati telefonici e alle immagini di una telecamera a circuito chiuso di un negozio di autoricambi piazzata proprio davanti la casa del delitto. Questa indagine è stata possibile incrociare una serie di informazioni, in quanto tutti i dati che è stato possibile recuperare, ed erano tutti i dati frammentari, delle immagini non di per sé utili a risolvere da sole il caso, con i traffici telefonici, con l'attività investigativa condotta alla ricerca di una macchina bianca e nera, tutti questi dati messi insieme, questo puzzle investigativo è stato ricostruito dagli investigatori e ha portato ad oggi all'esecuzione di tre fermi che sono stati convalidati e le indagini proseguono per la ricerca di un quarto responsabile. In due, Dorin Kalinescu, 23 anni, Nelu Ioan Ursulescu, di 24, sono stati fermati a Palinuro, Catalin Ilie Roscanianu, invece, 22 anni, a Roma. Un delitto, questo che vede affiancate e sovrapposte due chiavi di lettura, due elementi che insieme sono risultati letali per Campo Staipe, le sue frequentazioni sessuali con i giovani romeni e la sua attività di ricettazione. Determinanti per ricostruire i momenti immediatamente precedenti e successivi al delitto sono state proprio le immagini della telecamera del negozio, che hanno immortalato un'auto, un'onda civic bianca con il cofano nero a arrivare. In due sono saliti in casa con una bottiglia, gli altri due hanno atteso in macchina, poi li hanno raggiunti. La vittima aveva queste frequentazioni con dei cittadini rumeni, aveva avuto un incontro quella sera con due di questi cittadini rumeni ed era finito in un agguato, un agguato probabilmente a scopo di rapina e la tragedia si era consumata in quei 50 minuti di incontro tra questi uomini e questo cittadino peruviano. 50 minuti dunque tanto è durata l'aggressione, con i quattro che hanno picchiato la vittima per sapere probabilmente dove nascondeva qualcosa di prezioso, forse proprio quel qualcosa che hanno portato via in una grande busta dall'apparenza pesante, anche questa ripresa dalla telecamera, la refurtiva, il bottino della rapina che a Arturo Onorato Campo Staipe è costata la vita.